Mi chiamo Paola e sono nata nel 1962. Finite le scuole superiori, dopo neppure sei mesi ho trovato un lavoro a tempo indeterminato. Ai miei tempi era facile trovare un lavoro. Poi a questo ho aggiunto anche il lavoro stabile da casalinga e quello più desiderato, quello di mamma. Ed allora non ho mai smesso di lavorare. Oggigiorno è tutto molto più difficile per i giovani riuscire a studiare e a trovare soprattutto un lavoro adeguato per essere indipendenti. Per le donne se si aggiunge anche il desiderio di maternità è una difficoltà ancora più marcata, a volte inconciliabile e molto spesso irraggiungibile. Ma non dobbiamo dimenticare mai che il lavoro è un diritto ed è un diritto per tutti gli esseri umani. Auguro oggi alle donne forza, coraggio e perseveranza per raggiungere questo obiettivo perché è molto importante per le donne riuscire ad essere indipendenti. E vi auguro anche appropriandomi delle bellissime parole della poetessa Alda Merini, sorridi donna, sorridi sempre alla vita.